Buonasera a tutti e questa è un'edizione speciale della Tg7 Basilicata. Controlli dei NAS in tutta Italia nelle strutture sanitarie. Sono stati effettuati accessi presso 1.364 tra ospedali, ambulatori e cliniche, sia pubblici che privati. 26 tra medici ed infermieri sono stati denunciati dai NAS dopo verifiche sulla gestione di 3.884 liste di attesa e prenotazione per prestazioni ambulatoriali, visite mediche specialistiche ed esami diagnostici relativi al Servizio Sanitario Nazionale. 59 medici avevano favorito conoscenti e propri pazienti privati stravolgendo le liste d'attesa. Perciò sono responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. Per 195 casi le agende di prenotazione erano state sospese e interrotte con procedure non consentite. I NAS nella provincia di Potenza hanno effettuato accertamenti presso un poliambulatorio o un distretto sanitario e hanno consentito di appurare in entrambi i casi il mancato rispetto dei tempi di attesa secondo la priorità assegnata dal medico di medicina generale e delle corrette procedure nella comunicazione della sospensione delle agende. Per questa sera è tutto l'appuntamento e a domani. Arrivederci.